Ma perché vinci sempre tu? Imbroglio meglio di voi. Quando tutti mentono e cercano di essere qualcun altro... Li può contare? Non serve, mi fido. Complimenti, non ho mai visto un lavoro di questa qualità. Lui è Cash. Il suo nome è veramente Cash? Per vincere devi mettere in gioco tutto te stesso. Una rapina. 12 milioni di euro. Riuscirai a lavorartela? Sono uno sbirro. È il mio mestiere avere a che fare coi sospettati. Cash. Domenica alle 21.10 su Rai4.